I promessi sposi, come recita il sottotitolo, sono una storia milanese del XVII secolo. L'uso del termine storia non è casuale, perché le vicende individuali dei protagonisti Renzo e Lucia e del loro matrimonio contrastato si intrecciano con i grandi eventi storici che lacerano il milanese tra il 1628 e il 1630 sotto la dominazione spagnola. La vicenda, che si sviluppa in 38 capitoli, ha inizio il 7 novembre 1628, quando due loschi figuri inviati dal signorotto del luogo Don Rodrigo intimano a Don Abbondio di non celebrare il matrimonio tra Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Renzo, su suggerimento di Agnese, la madre di Lucia, si reca dall'avvocato a Zecca Garbugli per avere giustizia, ma in vano i due fidanzati si affidano allora a Fra Cristoforo, il quale trova per i due giovani un rifugio fuori dal paese, un monastero a Monza per Lucia, un convento a Milano per Renzo. A questo punto la narrazione segue alternativamente le vicende ora dell'uno, ora dell'altro personaggio. A Milano Renzo viene coinvolto nei tumulti popolari contro i fornai, arrestato, scappa e trova rifugio presso il cugino Bortolo, nel Bergamasco, in territorio veneziano. Don Rodrigo vuole rapire Lucia, servendosi di un potente malfattore della zona, l'innominato, e della complicità di Gertrude, monaca del convento, in cui è ospite Lucia. Ma l'innominato si converte alla fede, grazie all'intervento del cardinale Federigo Borromeo. Lucia viene liberata e affidata a una nobildonna milanese, Donna Prassede. Sopraggiunge la peste che uccide Don Rodrigo. Renzo, che ne è appena guarito, ritrova Lucia a Milano, nel Lazzaretto. Anche lei guarita. Fra Cristoforo scioglie il voto di castità, che la giovane aveva pronunciato durante la notte trascorsa al castello dell'innominato. I due promessi possono finalmente sposarsi e trasferirsi nel territorio di Bergamo.